O gloriosa Santa Maddalena, modello di penitente, fammi ottenere la grazia della perseveranza nel praticare l'autonegazione, conforme con i miei giuramenti. Prega Dio per me, che io possa apparire davanti a Gesù nostro Signore e Maestro al momento della mia morte, con la lampada piena dell'olio e della speranza e ardente della pura fiamma della carità, cosicché sia meritevole di essere ricevuto nel regno eterno di Dio. Amen.